Martedì 21 gennaio sarà il grande giorno per la mamma ed il fratellino del bimbo lasciato nell'androne del palazzo dove risiedeva la famiglia la sera del 6 gennaio e portato immediatamente dal 118 all'ospedale San Donato di Arezzo. La decisione del Tribunale dei Minori di Firenze era arrivata qualche giorno fa. Avevamo scelto la massima privacy proprio per tutelare i due bimbi e la mamma. Adesso la signora che è una 24enne che risiede a Subbiano come spiegano dal comune vivrà in questa struttura protetta in una regione vicina con i due bambini. Non solo il neonato di circa 4 mesi che fu ritrovato da un vicino nell'androne di casa ma anche il fratellino. I servizi sociali del comune di Subbiano resteranno comunque in contatto con la struttura e seguiranno come dichiara il sindaco Ilaria Mattesini la famiglia passo dopo passo sperando ovviamente come tutti lo sperano anche il personale dell'ospedale San Donato reparto pediatria che si è occupato dei bambini che sia una nuova vita piena di sogni e di serenità.